Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e spregiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Eccoci qui, siamo finalmente live. Benvenuti a tutti su Liberamente Live, lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale, sempre in compagnia di un ospite. Io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente. Qui accanto a me questa mattina, questo pomeriggio ormai direi, ho la possibilità di avere accanto una collega analista transazionale. Angela Todaro, benvenuta su Liberamente Live. Buon pomeriggio, grazie per questo invito. Allora Angela, prima di andare a gamba tesa sull'argomento di oggi, quindi fare questo viaggio insieme con te nella mente del narcisista, soprattutto cercando di capire come possiamo gestire il contatto con una personalità narcisistica, per le persone che non ti conoscono aiutaci un secondo a capire meglio chi sei e che cosa fai nella tua vita professionale di tutti i giorni. Io sono una psicoterapeuta, psicologa e analista transazionale e sono una libera professionista, quindi seguo i miei pazienti a studio e lavoro anche in terapia online molto. Inoltre faccio attività di divulgazione, ho una pagina Instagram molto seguita in cui pubblico sempre o costantemente i miei contenuti per aiutare le persone ad avvicinarsi anche alla psicologia. E molti dei tuoi contenuti che ovviamente consiglio a tutti coloro che stanno in ascolto di andare ad ascoltare, a fruire, perché sono sempre molto diciamo legati alla tematica proprio delle relazioni umane, in particolar modo delle relazioni che spesso e volentieri possiamo incontrare sul nostro percorso, anche con personalità, diciamo con questa sfumatura particolare che è quella narcisistica. E proprio per fare un po' di pulizia, Angela, perdonami niente, questo nome mi viene difficile, Angela, aiutaci un pochino a fare un attimo di pulizia, dicevo, rispetto a questo aspetto, perché oggi con la parola narcisista si coprono tante situazioni psicologiche diverse, quindi proprio per cominciare a fare un po' di ordine rispetto a questo tema, no? Che cosa significa essere una persona narcisista e quando è che il narcisismo diventa un disturbo di personalità? Certo, allora, il disturbo narcisistico di personalità ha delle caratteristiche ben precise. Una importante che non può mancare è la mancanza di patia, ossia l'incapacità di entrare in connessione emotiva con l'altro e quindi di mettersi nei panni dell'altro. Nella persona viene utilizzata come un oggetto da cui estrarre rifornimento. E poi la manipolazione e lo sfruttamento dell'altra persona, quindi per ottenere ciò che vuole, chi soffre di disturbo narcisistico di personalità è disposto ad utilizzare e calpestare chi ha davanti e quindi cerca di farlo sentire in colpa per non averlo accontentato, altre volte rinfaccia favori, dice bugie, parla male del partner o lo minaccia e quindi si nutre delle emozioni dell'altra persona, non importa che si tratti di amore, tristezza o rabbia, è come se il partner per lui fosse una pompa di benzina e quindi le sue emozioni il carburante di cui ha bisogno. Mi sembra una similitudine che è molto calzante e che aiuta subito a capire in qualche modo che è un problema del quale dobbiamo imparare un po' i tratti per imparare a distinguere, a riconoscerlo e poi anche poi a gestirlo in maniera efficace. Io Angela partirei anche da un inquadramento più ampio perché spesso si sente dire un po' che viviamo in un'epoca un po' narcisistica dove un po' trionfa la lotta per salvaguardare la propria individualità, l'altro diventa un po' lo specchio dei nostri bisogni dove viviamo un po' in questo consumismo relazionale per cui velocemente si cambiano relazioni, velocemente si usano le emozioni dove tutto ha un prezzo. Ecco, quindi secondo te è così, cioè viviamo in un'epoca narcisista e quali sono le possibili insidie di una società narcisista? Ecco, io credo che dipende da che significato vogliamo dare appunto alla parola narcisista. Non credo che siamo in un'epoca narcisista seguendo il senso clinico del termine, ma lo siamo in virtù del suo colloquiale del termine. Quindi quando si usa l'aggettivo narcisista in termini comuni e colloquiali in mente si ha la sensazione di un comportamento egoista più che altro. Quando invece si usa il termine clinico abbiamo in mente anche le cause, le sofferenze, perciò manteniamo anche un approccio più di comprensione della situazione. Quindi è importante a mio avviso distinguere il narcisismo appunto patologico, che è un disturbo di personalità, dal semplice egoismo e dall'egocentrismo che comunque sono presenti in diversa misura in ognuno di noi. Quindi il narcisismo non è egoismo o egocentrismo estremi. Il narcisismo patologico è molto più di una serie di caratteristiche perché è una struttura patologica di personalità, quindi a diversi livelli di gravità e solo lo psicoterapeuta può diagnosticarlo. Certamente il contesto socioculturale in cui viviamo viene sempre più definito appunto come una società narcisistica in quanto la nostra è un'epoca digitalizzata che facilita lo sviluppo di immagini e quindi la realtà contemporanea fortemente digitalizzata tramite questo utilizzo dei social, dei cellulari, ha generato una cultura di persone che sono assorbite tendenzialmente in se stesse e questo ha cambiato le modalità di relazione tra le persone. Quindi oggi c'è un po' di confusione quando si parla di narcisismo e dobbiamo qui specificare quindi che il narcisismo non è semplicemente il comportamento di chi vuole essere apprezzato e riconosciuto in modo un po' ossessivo. Certamente però è vero che diversi studi affermano che viviamo in una società narcisistica e il narcisismo infatti è stato considerato anche un tentativo di adattamento culturale in una società che è basata sull'immagine, sull'apparire, su questa grandiosità dell'essere. E quindi ci sono questi studi che hanno sottolineato che il narcisismo è in aumento nella nostra società e il narcisismo viene addirittura considerato da alcuni come una vera e propria epidemia generazionale. Quindi questi studi puntano sul mettere in evidenza come in una società come quella in cui viviamo, appunto in cui c'è stato questo avvento della tecnologia, dei social, è difficile non diventare narcisisti. Ci sono studi che mettono come dato generazionale significativo il fatto anche dello stile genitoriale, mettono in evidenza lo stile genitoriale che è stato definito elicottero, cioè quei genitori particolarmente indulgenti verso i propri figli, quindi iperprotettivi, pronti a difenderli a tutti i costi. E allora anche questo si è visto essere uno stile educativo che può rappresentare un fattore facilitante, poi quello che può essere lo sviluppo di questa società narcisista. Sai Angela, mentre ti ascoltavo mi piaceva particolarmente il passaggio che hai fatto nel cercare di comprendere la dinamica narcisistica, perché nel podcast liberamente io quello che cerco di promuovere è una conoscenza maggiore anche dei termini che invece solitamente utilizziamo e a volte anche in maniera impropria e c'è questo aspetto legato un po' al fomento, mi verrebbe da dire, poi all'odio verso il narcisista. Quindi c'è questo fomento qui secondo te e soprattutto quali sono quindi le cause che sono dietro a una personalità narcisistica? Cos'è che porta una persona poi a sviluppare questa mancanza di empatia verso l'altro? Aiutaci un pochino ad avere un occhio meno legato insomma al fomento, all'odio verso il narcisista, ma invece un occhio un pochino più critico e più capace di guardare oltre a quello che si vede in prima battuta. Ma certamente sì, il fatto che questo è intuitivo se ne può parlare oggi, quindi diciamo in questa società dove è tutto più visibile, più alla luce del sole possiamo condividere contenuti, divulgare, c'è più facilità appunto di conoscenza. Certo è che poi bisogna anche avere degli strumenti diciamo per leggere, per veicolare quello che arriva. Il punto qual è? Che l'odio nasce dal dolore, cioè dalla sofferenza, perché è vero che queste persone che mi chiedono aiuto, soprattutto donne, ma ci sono anche uomini che soffrono all'interno di relazioni tossiche, come manipolatrici affettive, stanno male, hanno subito appunto violenza psicologica e quindi poi nel comunicare, nel riportare la loro esperienza, del portare testimonianza e questo può favorire la maledizione da lanciare a chi soffre di disturbo narcisistico. Perché poi queste persone chiaramente non hanno gli strumenti clinici per comprendere, dicevamo, e quindi è più facile poi chiaramente giudicare, attaccare piuttosto che comprendere. Questo è quello che credo. Però è chiaro che poi c'è una storia dietro a questi disturbi appunto. Ci sono dei vissuti dell'infanzia, cioè i genitori di una persona narcisista possono essere stati trascuranti, oppure aver considerato il figlio come un proprio prolungamento, averlo messo costantemente al centro dell'attenzione come un oggetto da ammirare, ma non da amare per la sua autenticità. E quindi il messaggio che può arrivare durante la crescita, in questo caso, è quello di non essere degno di amore e questa mancanza l'andrà a compensare cercando approvvigimento narcisistico. Questo è bene sottolinearlo, no? Che quindi dietro c'è una storia. C'è un vissuto. È un vissuto che poi tu, diciamo, tratti anche all'interno dello studio di psicoterapia e dove le persone arrivano proprio contattandoti, dicevi che questo, diciamo, contatto viene sia per uomini che per donne. Allora, no, diciamo, qual è la situazione attuale, secondo te, o anche da quello che è il tuo vissuto come psicoterapeuta? Cioè narcisista donna, narcisista uomo, quali sono le differenze che ci sono tra queste due macro aree, macro categorie umane? Le differenze più rilevanti tra narcisti uomini e donne si riferiscono alla scelta delle fonti di appagamento narcisistico e alle differenti strategie di manipolazione che mettono in atto. Le donne narcisiste fanno leva sulla loro appartenenza di genere, sui loro tratti femminili, enfatizzano il loro ruolo in quanto donne, il corpo, il fascino e la sessualità. Gli uomini tendenzialmente enfatizzano più il denaro, lo stato sociale e l'intelletto. Quali sono i tratti specifici delle donne narcisiste tendono ad essere scontente, insoddisfatte, qualsiasi cosa i partner facciano per accondiscendere alle loro richieste non è mai abbastanza. Quindi utilizzano la svalutazione quando non vengono esauditi i loro desideri e installano nell'altro un senso di inadeguatezza. L'altro aspetto peculiare è recitare il ruolo della vittima, quindi raccontano la dolorosa storia della loro vita seguendo un po' lo stereotipo per cui le donne debbono essere salvate e sostegnute dal cavaliere di turno. Tendono a mettere molta enfasi sulla sessualità, sono molto seduttive nelle fasi iniziali della relazione ed esaltano la mascolinità del proprio partner per farlo appassionare e tenerlo legato. Sono pretenziose, quindi credono di meritare sempre un trattamento preferenziale e quindi ciò che si applica a loro non vale per gli altri. L'invidia, poi le donne narcisiste vogliono le qualità, il successo e i beni di altre persone e se non possono avere qualcosa che gli altri hanno vogliono che gli altri ne siano sprovvisti. E allora molte donne narcisiste lamentano di essere vintime del presunto privilegio maschile perché invidiano gli uomini di successo ma non sono in grado di ottenere poi gli stessi risultati. Non perché sono donne ma perché magari non hanno le stesse capacità. Sono iperfocalizzate quindi sul loro aspetto, spendono molti soldi per riempire questo vuoto interiore che hanno e quindi tendono ad agganciare gli uomini in una relazione anche per poi sfruttarli finanziariamente. Quindi tendono anche ad essere estremamente pettegole, a sminuire, a diffamare altre persone e soddisfano la loro grandiosità quindi sminuendo tutti gli altri. Il pettevolezzo quindi è un modo per mettere le persone anche l'una contro l'altra e provare in questo modo un senso di controllo. Quindi c'è questo tema dello sfruttamento senza preoccuparsi dell'altro. È molto interessante quello che dici perché c'è proprio un identikit molto preciso che esce fuori e secondo me un po' va a equilibrare quello che è uno stereotipo di genere forse potremmo dire per cui il narcisista è prettamente maschile un po' all'Arenardo DiCaprio in Wall of Wall Street dove c'è questa esaltazione del maschio e invece è importante capire anche rispetto a quello che ci stai dicendo come in realtà oggi è molto più equilibrato a questa dinamica narcisistica tra i vari due generi e hai citato diciamo le modalità, le strategie, le tecniche di manipolazione che il narcisista mette in atto quando entra in relazione con l'altro. Allora ti volevo chiedere quali sono le fasi manipolative della storia di un narcisista con un narcisista. Sì, la prima fase è quella che si chiama dell'idealizzazione che è questa fase del corteggiamento detta anche love bombing in cui si sforza di essere ciò che non è per conquistare l'altra persona la fa sentire speciale, la mette su un piedistallo si adatta completamente ai suoi bisogni e ai suoi desideri le dice cose tipo sei la mia anima gemella non ho mai amato nessuno come amo te e quindi in un primo momento la vittima è attirata seduttivamente con l'inganno e la falsa tenerezza quindi viene messa al centro delle attenzioni e fatta sentire una principessa oppure la salvatrice della triste storia di vita di questo individuo perverso nella fase successiva invece viene gettata nel pozzo della svalutazione subdola e di questa violenza psicologica che si manifesta via via andando avanti e quindi il narcisista finge di essere l'uomo oppure abbiamo detto la donna dei sogni per ottenere dei vantaggi come la sensazione di essere amato, il potere o lo status sociale ogni tanto mostra la sua vera natura attraverso per esempio una spra critica un'aggressività ingiustificata che sono, cominciano ad essere quei campanelli d'allarme che però la vittima tende a giustificare arriviamo poi a una fase che è definita svalutazione quindi quando ha ottenuto quello che vuole il narcisista improvvisamente perde interesse quindi la sua vera natura esce allo scoperto i maltrattamenti si fanno più frequenti e l'intervalla con momenti in cui torna però ad essere dolce affascinante come nei primi tempi e allora la vittima che fa cerca di allinearsi il più possibile a quelli che sono le sue volontà però non è mai abbastanza e quindi il narcisista aumenta le sue pretese arriviamo poi alla terza fase che è quella dello scarto e quindi quando non ci sono più le emozioni dei primi tempi abbandona il partner che lascia solitamente per un'altra vittima che almeno momentaneamente riesce a dargli quello che cerca e allora può alternare momenti questi allontanamenti momentanei con anche dei tentativi di ricattura in questa fase la vittima si domanda cosa ho sbagliato e possiamo dire che lo scarto può arrivare con due modalità fondamentalmente può essere il cosiddetto scarto indotto cioè fa in modo di essere lasciato oppure lo scarto agito direttamente cioè interrompe la relazione quando lo decide lui questa è la fase in cui lo attanaglia la noia della relazione che subentra non appena la percezione dell'attaccamento e della dipendenza della preda e quando l'altro inizia a rivendicare il diritto a vedere rispettare le sue esigenze emotive e aspettative di vita è estremamente interessante anche l'accuratezza con la quale descrivi tutti questi aspetti e proprio perché credo Angela che attraverso l'accuratezza anche di questi dettagli che tu ci stai raccontando possiamo imparare a riconoscere quelli che sono i campanelli di allarme anche quando ci troviamo davanti magari a una persona con questo particolare taglio di personalità e proprio su questo volevo continuare a battere il chiodo Angela insieme con te cioè quali sono i campanelli inequivocabili di allarme che possiamo tenere presente per capire se davanti a noi c'è un narcisista oppure no non essere il migliore sii unico credi in te impara ad amarti e datti il potere di cambiare il potere di cambiare accetta il tuo passato vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro potenzia la tua libertà potenzia la tua libertà e stringiona tutta la tua energia tutta la tua energia perché la tua vita migliora perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare quando sei tu a migliorare questo è Liberamente il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più per liberare la tua mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni